Quali vaccini Covid-19 sono attualmente oggetto di ricerca? Ci sono al momento, in fase preclinica, quindi stiamo parlando di studi sugli animali, circa 180 vaccini in oggetto di ricerca. In fase 1 ce ne sono una trentina. Fase 1 significa che prendo un gruppo piccolo di soggetti umani sani. Poi in fase 2 abbiamo un'altra trentina di vaccini. Qui si prendono in fase 2 circa 100 soggetti sempre sani, quindi aumenta il gruppo di studio. E poi ci sono una ventina di vaccini in sperimentazione in fase 3. Fase 3 significa che devo prendere un gruppo di studio più grosso, in cui anche coinvolgo pazienti con patologie, quindi non tutti sani, una parte sicuramente con patologie, e almeno mille persone. Di solito comunque le dite farmaceutiche ne prendono almeno 10.000, anche perché certi effetti collaterali si vedono solo sui grossi numeri. Ci sono vari approcci come tipo di vaccini. Ci sono vari vaccini che rispecchiano quelli che sono già stati approvati, che sono quattro al momento in Italia. Sarebbero il Pfizer, il Moderna, il Johnson & Johnson e l'AstraZeneca. Quindi alcuni vaccini riprendono la tecnologia dell'AstraZeneca, altri vaccini sono proteine split, altri sono virus inattivati, altri sono vettori adenovirali come Johnson & Johnson e l'AstraZeneca, però resi incapaci di replicarsi, quindi non veramente vivi. Altri vaccini prendono degli adenovirus vivi, quindi vaccini vivi. Insomma le tecnologie sono varie e io direi concentriamoci su quelli che sono i più probabili candidati nel prossimo tempo. Al momento ce ne sono già in commercio che si potrebbero utilizzare, per esempio il Johnson & Johnson è un ottimo candidato che avremo a breve e lo Sputnik, il vaccino russo, anche questo potrebbe essere un ottimo candidato.